Non posso avercela come una persona fisica, io ce l'ho con il sistema, il sistema mi ha rovinato la famiglia, questi sono rovino famiglia. La gente si toglie la vita, ci vogliamo prendere conto di questo o no? Non stiamo parlando di una persona che cade e si rompe una gamba, qui stiamo parlando di gente che lascia intere famiglie nella disperazione più totale, ma non per loro volontà, perché comunque io sono convinta che nessun padre di famiglia voglia lasciare i propri figli, nessun uomo che ama la propria moglie vuole lasciare la propria moglie in mezzo alla strada, nella più totale disperazione, nessuno vuole questo.